Ciao ragazzi e ciao ragazze Sì, sono ancora truccata, vestita e in questa postazione perché ho ancora una mezz'oretta a disposizione prima che si faccia sera e si vada a cenare Stavo controllando tra i miei file i video tag che ho messo da parte le domande alla quale mi piacerebbe rispondere e ho ritrovato il tag zombie apocalypse questo video tag che girava più o meno 3-4 anni fa ci sono delle domande in cui devi rispondere rispetto a youtubers o altro io le modificherò leggermente però giù nell'info box vi lascio comunque le originali le modifico per il semplice motivo che non ho nessuna voglia di parlare di youtuber non mi interessa poco di striscio preferisco risponderle, tra virgolette, utilizzando la mia vita come riferimento quindi come se dovesse accadere effettivamente o se fosse accadere effettivamente un attacco zombie quindi uno zombie apocalypse e quindi dovrei fare, come se dovessi fare effettivamente delle scelte nella vita reale allora, la prima domanda ok, l'originale, tra virgolette, era quale youtubers vorresti nel tuo team? io quindi qui inserirei quale tra le persone a teccare vorresti avere nel tuo team per sconfiggere gli zombie? allora sicuramente tutta la mia famiglia qualsiasi persona anche non essere umano ma anche essere vivente della mia famiglia vorrei che fosse al sicuro e quindi lo vorrei nel mio team che non mi succedesse nulla però se team intendiamo un team di un gruppo di persone che va fuori dal rifugio di sicurezza per combattere cercare di liberare la terra dagli zombie allora qualcuno con il sangue freddo quindi non io sì, sicuramente il mio fidanzato che è una persona razionale quindi mi potrebbe servire in un team di combattimento qualcuno che conosce le arti marziali eccetera ho mia nipote la figlia di mia cugina che fa karate ed è fortissima quindi gli ucciderebbe a calci poi ok c'è il mio cugino che di tanto in tanto prima si direttava a fare guerriglia di soft hair quindi quelle pistole ad aria con i proiettili colorati per fare l'effetto cioè per far vedere che l'emico era stato abbattuto quindi sa usare un po' le armi quindi anche mio cugino Marco e va bene così diciamo questi mi servirebbero per combattere questo tipo di figure mi servirebbero per formare un team di combattimento allora il primo oggetto alla tua sinistra sarà la tua arma il mio mouse che ci devo fare? questa è una domanda stupida io lo lancio dietro con la fionda tipo gli ultimi personaggi arrivati in The Walking Dead la sorella della ragazza sordomuta e usano la fionda allora se tu fossi uno zombie quale parte del corpo vorresti mordere? se fossi uno zombie e quindi mi dovrei nutrire di persone non mi interessa quale parte vado a mordere basta che mordo basta che mi nutro quindi addocoglio coglio si dice al primo paese dove coglio addocoglio coglio quale sarebbe la tua strategia per sopravvivere? allora io sono fissata di zombie quindi ogni tanto penso se dovesse accadere come potrei sopravvivere prima di tutto avrei bisogno di trovare uno spazio fortificato con delle scorte acqua e cibo posizionato in un punto alto e tanta tanto sangue freddo questo sarebbe la mia strategia per sopravvivere ovviamente circondarsi di persone fidate andare a controllare che non siano stati morsi coprire tutti i buchi eventuali dove potrebbero entrare anche animali morsi da zombie perché non dimentichiamo anche gli animali il buon caro vecchio Romero nell'ultimo film sugli zombie lui è ovviamente stato il padre degli zombie e fino al penultimo film i suoi zombie non mangiavano gli animali quindi gli animali non potevano diventare né cibo né ovviamente zombie purtroppo nell'ultimo c'è stato un evento e quindi gli zombie hanno morso un animale non si vede se questo animale poi si trasforma o meno però visto che il morso dello zombie ti lascia un virus eccetera quindi credo che anche quell'animale si sia trasformato in più la grande saga di Resident Evil fa vedere gli animali zombie quindi stai attenti anche ad animali che potrebbero entrare in questa casa fortezza vuoi che la zombie apocalypse accada no assolutamente no ho una paura folle c'è stato un periodo in cui ma anche tuttora riesco a riconoscere nel mio sogno se è un sogno che riguarda un apocalypse una zombie apocalypse so dalle sensazioni che ho durante il sogno se quel sogno poi porterà all'arrivo degli zombie quindi cerco di svegliarmi perché ho l'ansia allora cosa faresti se il tuo animale domestico dovesse diventare zombie mio dio che cosa terribile ovviamente non lo lascerei zombie no non mi farei neanche mordere perché uno zombie non ha coscienza quindi poi io e la mia ame lì ci dovremmo comunque separare la ucciderei lo zombie che è diventato per poi piangerla cremarla e tenerla sempre con me mamma mia che cosa è brutta guardo dietro perché è sul mio letto che dorme perché mi ho fatto una passeggiata e ora è distrutta allora quali sono i due youtuber che vorresti mordere volentieri perché questa qua la salto non mi interessa rispondere potrei anche cancellare però due persone che vorrei mordere volentieri no al momento nessuno non ho nessun nemico se braccia di braccia gamba che sia ovviamente se lo mordono le parti dove non possa amputare gli starei accanto finché ovviamente non arrivi la fine e dopo ci penserei io a non farlo andare in giro da zombie in quale città ti vorresti trovare se la zombie apocalypse dovesse accadere mi sta bene anche la mia città sinceramente anche Salerno non ci manca nulla e poi nella mia città c'è la casa di mia zia che per me è un rifugio perfetto mia zia abita all'ultimo piano l'ex proprietaria di quella casa aveva preimpostato che l'ascensore non potesse arrivare all'ultimo piano se non con l'aiuto di un telecomando quindi quando io voglio arrivare da mia zia non posso cliccare direttamente il piano ma devo cliccare a quello di sotto e poi mia zia con il telecomando mi fa fare l'ultimo step quindi con l'ascensore non ci puoi arrivare i gradini che portano poi al pianerottolo di mia zia c'è una cancellata che copre tutta l'area quindi ovviamente gli zombie non potrebbero passare e la casa di mia zia è gigante quindi potrei far venire tutti i miei parenti ha anche due terrazzi giganteschi così anche gli animalini possono rimanere possono stare sì voglio andare a casa di zia se succede qualcosa del genere e poi zia ha anche un sacco di scorte tipo alimentari di bere eccetera quali sono le tre armi che porteresti con te e perché sicuramente un'arma da taglio anche perché rifacendoci allo zombie di The Walking Dead se sentono rumori quindi spari eccetera sono attratti quindi meglio non utilizzare una pistola se non nei casi urgenti quindi un'arma da taglio un pugnale una 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 spada una katana qualsiasi cosa potrebbero servire poi cosa porterei con me pistole più non posso tante troppe e ancora una terza urangiafiamme sì urangiafiamme serve sempre dare un po' di fiamme agli zombie che abbigliamento indosseresti ho difficoltà con le S oggi per la zombie apocalypse ovviamente qualcosa di comodo non ingombrante che copra la maggior parte del mio corpo quindi direi un jeans comodo con stivalotti ce li ho anche qua un momento aiuto un bello stivale comodo come questo rinforzato ci sta su una maglietta normale probabilmente come reggiseno preferirei quindi reggiseni sportivi così se devo correre non ho difficoltà con il décolleté giubbotto di pelle ci sta sempre giubbotto di pelle è un classico nevergreen una borsa a tracolla o uno zainetto lo zainetto lo zombie lo potrebbe tirare però non ha la forza di tirare alcuni tipi di zombie però una tracolla non lo so sono in decena tra una tracolla e uno zainetto qualcosa di comodo forse è più uno zainetto sì uno zaino sì 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 uno zaino eventualmente anche non so se mi può coprire un tipo uno zaino da scuola quelli grandi con dicta mi può coprire da un attacco dietro sì 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 forse è meglio uno zaino poi vabbè capelli ovviamente legati o corti perché se no mi può prendere poi basta non mi serve più nulla ok il ho risposto a tutte le domande del tag come sempre giù nell'info box vi lascio la la lista delle domande come sempre ti ringrazio per avermi fatto compagnia spero che io te ne abbia fatto a te se vuoi c'è il tastino per l'iscrizione se ti va di supportarmi c'è sempre il pollicino in su io nel frattempo ti ringrazio ti abbraccio ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba ciao ciao